Si chiama Claire Margaret Michiel, a 23 anni detta di una giovane ragazza la quale sarebbe stata arrestata perché avrebbe guidato in stato di ebrezza e avrebbe abusato di minorenni. La polizia l'avrebbe sorpresa completamente ubriaca alla guida dell'automobile e avrebbe appreso che aveva lasciato da solo il bambino, il figlioletto, di soli 5 anni di età per diverse ore per andare a divertirsi e bere in un bar. La donna ovviamente è stata ammalitata, è stata assicurata l'aiutata al competente, le urla del bambino hanno ovviamente svegliato tutti e si sono messi tutti in alletta anche perché il bambino era oltre che impaurito, spaventato, anche triste perché comunque non vedeva arrivare l'amata madre che invece stava andando a fare bisboccia a bere come una dannata tra virgolette. Bene, anzi mai non bene, il video termina qua, non bisogna mai fare cose del genere ovviamente perché i bambini non vanno mai lasciati soli a mio avviso, la mia opinione si è ben chiara, ma devono essere sempre aiutati e capiti. Da narratori, ciao a tutti. Grazie. Grazie. Grazie.